In alcuni casi nel nostro lavoro dobbiamo anche frenare un po' la fantasia per alcuni clienti nel realizzare dei prodotti che rispettino le esigenze dell'abito stesso. In questo caso un funzionario di governo statunitense avrà bisogno di un abito in qualche modo quotidiano, sobrio, serio. E ovviamente ipotizzando di poter fare tutto ciò che è permesso fare all'interno di una soluzione su misura si è lanciato con un po' di iniziative particolari. È un doppio petto chiaro, è il beige, è il grigio scuro, è il grigio chiaro. Insomma il pensiero è stato quello di realizzare un capo che fosse in qualche modo sobrio, serio, facilmente utilizzabile tutti i giorni e facilmente anche abbinabile con altre cose. E quindi abbiamo fatto un capo di straordinaria semplicità ed eleganza. Due bottoni, erbe classico, tasche a pattina, ma in questo caso le abbiamo realizzate inclinate per dare quel piccolo tocco di sartorialità in più. La fodera interna, il nostro ormai tipico, bellissimo, viola cangiante, elemento interno che si nota poco e l'abbiamo abbinato con l'obiettivo di dare un look molto serio, molto sobrio, da ufficio, coerente con l'importanza del suo ruolo. Credo che siamo riusciti a realizzare un capo coerente con le sue esigenze. Spero che l'ambito e che il video vi siano piaciuti e ci vediamo da dal sarto. Grazie.